Samuele Gullino, tu sei uno dei volontari dell'Associazione Coordinamento Astiest che in città segue le famiglie in emergenza abitativa. Avete anche sostenuto sei famiglie in Via Allende nell'occupazione di una palazzina di proprietà del Demani, operazione che è stata anche contestata da una parte della politica, siete anche stati chiamati in giudizio. Insomma, come rispondete alle critiche che arrivano, ma soprattutto quali sono poi le iniziative per i prossimi giorni? Sì, allora la palazzina di Via Allende è occupata da tre anni, abbiamo già avuto due contatti con i tribunali, il primo in particolare, il primo grado di giudizio è stato a favore delle famiglie che sono state assolte dal reato di occupazione per stato di necessità perché è stato verificato il vero e proprio effettivo bisogno di queste famiglie di entrare in quella palazzina e di utilizzarla a scopo abitativo. Un secondo grado di giudizio, l'appello purtroppo fatto da proprietà, non ha avuto lo stesso esito. Sì, queste famiglie hanno ricostruito una residenzialità in questi tre anni, hanno ricostruito delle certezze, dei legami familiari, sociali e una sorta di sicurezza anche come trampolino di lancio per ritornare sul mondo del lavoro. Le famiglie in emergenza sono molte, si calcolano 120 nuclei familiari in difficoltà qui ad Asti senza un tetto, ma insomma adesso pensate di portare avanti altre iniziative di questo tipo? Assolutamente sì, perché la situazione non è cambiata. Abbiamo felicemente constatato una volontà di dialogo da parte dell'amministrazione, in particolare da parte dell'assessorato ai servizi sociali, ma in realtà è un dialogo che ad oggi non ha prodotto nessun tipo di risultato perché in termini pratici le case non ci sono, continuano a non esserci, le poche case che escono dal piano casa della regione. In realtà concede l'esistenza di pochissime case monolocali o piccolissimi bilocali che non sono per nulla adatti a famiglie che vivono in emergenza abitativa anche per il fatto che sono numerose.